All'Acqua Santiani il Trivento ospita la Juvenes per la quinta di ritorno. Dopo tre pari e 5K1 nelle ultime otto partite, i Trignini sono fortemente chiamati ad apportare delle migliorie al proprio rendimento per risalire in classifica. Buon percorso invece per la squadra di Mirabello che cerca continuità. Designato per la direzione il signor Granitto della sezione di Termoli e poco prima del fischio d'inizio il commovente ricordo per Cristiano Paparella, ragazzo di Campobasso venuto a mancare nelle scorse settimane. Con Antonio Di Perna in regia riviviamo gli highlights. Al quarto è subito occasione per i locali. Il piazzato dal limite di Cioccia che colpisce bene con il piatto destro e ci pensa l'incrocio dei pali a salvare il rosso-blu. Al quattordicesimo lo stesso Cioccia a disegnare per Nicola Di Blasio. Non un granché il suo diagonale. Al ventesimo nuova situazione da fermo per il Trivento. Questa volta si incarica della battuta Viglione. Roberti para in due tempi. Al ventiquattresimo la Juvenes con la punizione di Laudizio deviata in corner dalla barriera. Trivento che continua a prendere le misure. Prima al venticinquesimo con Paolo Di Blasio e al ventinovesimo con la conclusione dalla distanza di Colagrossi. Ospiti alla mezz'ora che attaccano sulla corsia di destra. Con Laudizio c'è l'uscita di Minichillo. Azione inoltrata d'arco che favorito da un rimpallo riesce a servire a Zizza sulla cui svirgolata salva tutto Cioccia. Al trentasettesimo il giallo-blu con Iocca. Sinistro dal limite del tutto inefficace. Al quarantesimo il rosso-blu con Cacavaio direttamente dalla bandierina. Palone che colpisce il palo. E 0-0 al duplice fischio. Nel secondo tempo neanche 20 secondi. Laudizio dalla destra al centro per Di Maio che calcia sulla corsa di prima intenzione. Si divora il vantaggio. Stessa sorte alla sesto per il suo compagno. Laudizio fermato dal rumore del palo. E tre minuti più tardi sempre il numero 7 a proporsi. Questa volta la sfera termina fuori di poco. Laudizio che non si dà pace. All'undicesimo il terzo tentativo personale della ripresa va a segno con un sinistro potente. Con il palone che termina la sua corsa sotto la traversa per lo 0-1. Al diciottesimo la squadra di Viglione subisce l'affronto della sfortuna con il secondo legno di giornata colpito da Cioccia. Al ventitresimo sempre i padroni di casa con il neo entrato Cirenei che stacca da pochi passi. Il palone che sorvola la traversa. 27 magri sull'assist di arco. Super gol alla piazza dove il portiere non può arrivare per il raddoppio della Juvenes. Al quarantaduesimo il cross di Cioccia. Non la tocca nessuno e può bloccare Roberti. Il minuto seguente il terzino dei giallobru Zullo. Rosso diretto per lui che interviene così su testa. Il trivento che chiude in dieci uomini. Alla novantaquattresimo il tiro di Cirenei. E parato da Roberti finisce 0-2 con il trivento sconfitto per la sesta volta in nove partite. La Juvenes sale a quota 32 al sesto posto insieme alla Bois Vairano e la Esernia. Quest'ultima di scena sabato prossimo al Comunale di Mirabello.